Bentornati alla notizia di Grande Fratello Vip. Oggi con le ultime notizie l'ichè. Ginevra Lamborghini di nuovo al centro della polemica a causa di alcune dichiarazioni rilasciate in diretta, è stata scoperta. Nonostante la squalifica dopo una frase shock contro Marco Bellavia, la giovane Ginevra Lamborghini continua ad essere una protagonista indiscussa di questo grande fratello Vip. L'ormai ex Gieffina è già tornata in casa una volta e nel corso dell'ultima puntata è stata protagonista di un secondo confronto con Antonino Spinalbese. Durante il botta e risposta, l'ex farrucchiere ha provato a chiederle anche delle delucidazioni in merito al suo rapporto con la sorella Elettra. Un tentativo notato anche dallo stesso Alfonso Signorini che in un secondo momento in studio le ha fatto la stessa domanda. Ginevra in diretta ha rilasciato alcune dichiarazioni shock che sembravano far presagire una riconciliazione. La sua versione è però stata contestata in queste ore, l'ex Gieffina avrebbe mentito ancora una volta. Ginevra Lamborghini, la verità su Elettra, continua a mentire? Durante il suo percorso nella casa più spiata d'Italia, la Lamborghini più volte ha parlato del suo rapporto con la sorella Elettra. La giovane artista ha rivelato di non parlare con lei da diversi anni a causa però di una netta presa di posizione della sorella. In aggiunta ha raccontato di non avere idea del motivo preciso ma di essere pronta a risolvere la situazione. A distanza di diversi giorni dalla squalifica, Ginevra in diretta ha parlato ancora della sorella ed ha rivelato, non ci siamo ancora viste o sentite. Ho un sentore, una sensazione che qualcosa stia andando. Le cose si stanno sistemando. Piano, piano, piano però per me è già tanto. Queste parole hanno quindi spinto tutti ad ipotizzare una possibile riconciliazione in arrivo. Questa versione però è stata contestata in queste ore da Alessandro Rosica, conosciuto come l'investigatore social. Il noto esperto di gossip ha infatti rivelato, che bugiarda. Elettra non la sta calcolando di striscio e non è cambiato nulla. Non sa più che inventare Ginevra. Secondo questa versione, l'ex GFina si sarebbe quindi lasciata andare a dichiarazioni finte e solo per avere un motivo per conquistare ancora spazio in trasmissione e nel mondo del gossip. Due versioni di questa storia quindi completamente diverse e che adesso rischiano di aprire un nuovo giallo. Intanto dal canto suo Elettra Lamborghini continua a non esporsi, nemmeno attraverso i social, per chiarire come stanno le cose. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.